buongiorno a tutti in questa serie di video parleremo del css quindi di come dare dello stile e del layout alle nostre pagine html in particolare l'obiettivo di questa serie di video sarà appunto quella di introdurre il css come uno strumento per stilizzare il contenuto di pagine web e come uno strumento per fornire un layout non solo semplice ma anche avanzate complesso alle pagine web stesse inoltre vedremo alcuni concetti alcune proprietà ed alcuni strumenti in forma di librerie per realizzare layout responsive quindi che siano capaci ad adattarsi a varie risoluzioni a vari schermi a partire da quelli di un desktop fino ad arrivare a quelli di uno smartphone per partire iniziamo da la struttura del css e dal linguaggio l'attuale versione di css si chiama css 3 css sta per cascading style sheet quindi fogli di stile che vengono applicati in cascata e vedremo breve cosa vuol dire questo in cascata css ha una diciamo abbastanza lunga storia css nasce nel 1996 a fine del 96 con la sua prima versione che è una raccomandazione della w u3 c segue una serie di evoluzioni tra cui css 2 nel 2011 fino ad arrivare in tempo un po più recenti a css 3 che in maniera simile a quello che capita con html 5 ha un approccio modulare a delle componenti dei moduli appunto che si possono trovare a stage a livelli differenti di maturità di evoluzione di adozione quindi una raccomandazione un working draft e così via per appunto parti diverse di questi moduli qui poi nella slide sono riportati un altro paio di link e questa è appunto la pagina di riferimento ufficiale della w u3 c sul css in cui ci sono i vari moduli le quali proposte di sviluppo e così via e poi della documentazione utile per il css si può trovare come il solito sul sito di developer.mozilla.org sito che abbiamo già utilizzato ampiamente per la parte javascript qui viene indicata invece soprattutto per la parte relativa al web e la parte relativa al css giusto per dare una overview di questa componentistica moduli di questa evoluzione temporale del css possiamo guardare questo grafico vedete che all'inizio appunto intorno al 1996 98 avevamo css 1 che era un blocco consolidato di approcci di metodologie di strumenti per applicare il css a pagina web e all'incirca tra il 98 e il 2000 e qualcosa sappiamo che il css 11 del 2011 css 2.1 del 2011 e nasce appunto css 2 e css 2.1 che man mano evolve e continua vedete alcuni componenti alcune cose di css 2 continuano ad esistere tuttora ma a un certo punto iniziano a comparire i vari moduli di css 3 vedete che tutte queste cose costruiscono sulle versioni precedenti per cui css 3 i vari moduli di css 3 che sono qui riassunti costruiscono e utilizzano ancora gli sviluppatori web possono utilizzare ancora sia i nuovi componenti di css 3 sia i componenti messi a disposizione da css 2 e da css 1 quindi le funzionalità che esistevano sin dal principio degli arbori continuano per la maggior parte ad essere utilizzabili finora e vedete cosa succede con css 3 con css 3 passiamo da una struttura a blocchi grossi in cui c'è tutto uno standard css 1 tutto lo standard css 2 e così via a vari moduli diversi quindi un modulo per i selettori che poi è evoluto e diventato un altro modulo separato per i selettori un modulo per i bordi che continua a evolvere nel frattempo vari moduli per le immagini dei moduli dei blocchettini per supportare il multicolonna in maniera diversa in maniera anche qui evolutiva se volete e poi molto più recentemente per esempio un blocco per supportare nativamente in css il layout a griglie e ricordate questo css e ricordate se possibile l'immagine che avevamo mostrato per la famiglia di tecnologie relative a html in cui css 3 aveva una sua parte proprio perché alcune di queste cose ovviamente sono molto 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 interconnesse con html 5 allora qual è la sintassi di css? css ha una sintassi basata su regole quindi di nuovo non è un linguaggio di programmazione come javascript ma sono una serie di regole che si applicano in un certo modo a quello che si trova all'interno del documento html e che cos'è una regola? una regola è appunto uno statement, una frase, una serie di istruzioni diciamo così riguardo a un aspetto stilistico di uno o più elementi html e una regola è composta sempre da due parti un selettore e una o più dichiarazioni e un foglio di stile, un stylesheet, un file quindi css è composto da un insieme di una o più di queste regole che si applicano a un documento html allora voi vedete per esempio in questo caso quando abbiamo un selettore h1 quindi stiamo dicendo la regola, le dichiarazioni che seguiranno che saranno in queste parentesi graffe, saranno da applicare nella pagina web, nella pagina html agli header di primo livello e qual è questa regola da applicare a tutti gli header di primo livello della pagina? le regole sono due questa prima dichiarazione e questa seconda dichiarazione e a tutti gli header di primo livello dobbiamo applicare un colore blu e in aggiunta una dimensione dei font del testo di questo header h1 che sia a 12 pixel e vedete che le dichiarazioni queste sono due, potrebbero essere 3, potrebbero essere 5, potrebbero essere anche una sola le dichiarazioni sono sempre separate da punte virgola quindi ogni dichiarazione è composto da una proprietà un valore valido per quella proprietà e un punto e virgola una proprietà, due punti, un valore valido per quella proprietà e un punto e virgola allora ovviamente la proprietà color avrà come valore i colori rosso, verde, giallo, blu sia in formato testuale, come in questo caso, sia in formato esadecimale la proprietà grandezza del font avrà un valore per esempio uguale a 12 pixel 50 pixel, 24 pixel e così via quindi, giusto per ricordarci, questa è un'ipotetica struttura di un file html simile a quello che abbiamo realizzato la settimana scorsa in cui abbiamo un head con un titolo un body che si apre e si chiude qui un div che si apre e si chiude qui all'interno di questo div ne abbiamo altri due questo è il primo e questo è il secondo all'interno di questo primo div abbiamo una tabella che sarà composta da un'intestazione step e processi e poi da una serie di celle e nel secondo div invece c'è un testo che dice questo link non è attivo e questo non è in corsivo ma se lo fosse la risposta a questo esercizio sarebbe qui e qui c'è di nuovo un'immagine dentro un link quindi questa è una pagina html semplice se vogliamo questa pagina html l'abbiamo visto quando parlavamo di architetture di web sia di architetture web sia di html viene poi parsificato in una struttura ad albero allora questa struttura ad albero che poi è la struttura che viene utilizzata per applicare il css quindi se noi applichiamo per esempio una regola css ad html in realtà stiamo dicendo che questa regola si applica a quasi tutto questo albero e vedremo quasi tutto cosa vuol dire però diciamo che se html ha come regola che il font deve essere di colore rosso ecco tutti questi elementi qui sotto che avranno dei font saranno tutti scritti in rosso vedete che questo html quindi c'era un html poi c'era l'head poi c'era il body dentro l'head c'era il titolo si struttura esattamente in un albero in cui abbiamo l'html da una parte abbiamo l'head dentro l'head abbiamo il titolo e dentro il titolo abbiamo il testo che compone il titolo dall'altra parte abbiamo il body il body ha un div grosso all'interno del div grosso c'erano due div uno con la tabella e vedete la tabella come viene poi scompattata come viene poi espansa nell'albero quindi ogni riga, ogni cella di vario tipo e così via e l'altro div con i componenti di testo spezzettati vedete che questo era this link is il not era in corsivo e poi c'è del testo e in questo albero abbiamo this link is perché c'era il testo siccome il not era dentro il corsivo abbiamo un altro blocchettino che identifica che questa stringa questa parte di testo in realtà va in corsivo poi subito dopo abbiamo un'altra porzione abbastanza lunga di testo poi finché dura questo testo finché non c'è poi un altro tag html in questo caso un'ancora, un link all'interno di questo link c'era un'immagine e quindi eccoci qui con l'immagine poi torniamo su di un livello perché siamo al pari di this link is al pari di m al pari di quest'altro testo al pari dell'a dove c'è un nuovo testo e una nuova parte in corsivo vedete che è esattamente questo c'è il testo c'è poi la parte m che sono allo stesso livello il not è all'interno dell'em quindi nell'albero un livello sotto e così via quindi i documenti html vengono poi passificati dal browser l'abbiamo già visto in parte come alberi come questi alberi e appunto lo stile viene ereditato lungo questo albero come viene ereditato? seguendo una regola principale che quando due regole sono in conflitto vince la regola più specifica quindi se c'è una regola in generale che dice che il colore deve essere rosso e c'è una regola specifica che dice che il colore deve essere verde sull'elemento specifico vince la regola che dice che il colore deve essere verde perché è la regola specifica qui mostro un esempio noi abbiamo un'istruzione pseudo CSS che dice che tutto quello che è che è applicato al body quindi si deve applicare l'intero albero sotto il body che dice che il colore deve essere verde allora se noi applichiamo questa regola al body e solo questa regola diciamo che body ha come colore verde ma questo p ha colore verde questo h1 ha colore verde questo ul ha colore verde e anche questi due li hanno colore verde perché tutto quello che è sotto body ha un colore verde se poi noi definiamo però un'altra regola che dice che h1 deve avere colore rosso ecco che questa nuova regola è più specifica e quindi vince sulla regola generale e allora sotto body tutto sarà verde tranne l'h1 che invece sarà rosso questa è di nuovo la sintassi dice SS l'abbiamo già vista c'è una proprietà ci sono due punti c'è un valore c'è un punto in virgola che separa le dichiarazioni e le dichiarazioni possono essere come nell'esempio che abbiamo visto prima messe tutte in linea va bene quando sono uno o due ma più tipicamente sono messe una sotto l'altro a capo all'interno di parentesi graffe fatemi mostrare anche altri concetti di per esempio gerarchia e di regole che vanno in conflitto questa l'abbiamo già vista è simile a quello che abbiamo già visto dato che il foglio di stile è in cascata se noi applichiamo queste due regole che dice che h1 è colore rossa e h2 è colore blu ovviamente vince la seconda anche se si applicano allo stesso elemento questo lo vediamo dopo e l'ereditarietà per esempio ci dice che tutte le proprietà ereditano vedete questo esempio che abbiamo fatto prima che è la proprietà generica che dice che su body il colore è blu mentre su span il colore è nero vedete che tutto è blu tranne questo span che evidentemente è nero tutte le proprietà vi dicevo prima quasi tutte le proprietà ereditano in realtà alcune non ereditano per esempio se voi impostate una ampiezza una larghezza in questo senso a un elemento tutti i discendenti non ereditano diciamo un'ampiezza del 50% tutti i suoi elementi non ereditano questa proprietà ma i suoi figli i suoi elementi figlio rimarranno relativi invece al 100% di nuovo quindi ci sono le proprietà le più comuni quelle che hanno senso che ereditano altre proprietà tipo la larghezza di un elemento contenitore per fare un esempio che invece non viene ereditata perché altrimenti bisognerebbe in ogni singolo in ogni singolo elemento andare a rispecificare qual è la larghezza l'altezza specifica di quell'elemento perché se vogliamo fare per esempio una colonna grossa un terzo della pagina non vogliamo che tutti gli elementi all'interno della colonna siano un terzo della colonna che lo contiene quindi la maggior parte delle proprietà ereditano alcune tipo queste tipo quella della della larghezza invece no CSS ha poi tantissime proprietà quindi queste proprietà che abbiamo visto prima color per esempio font size background color border radius sono tutte proprietà ognuna di quali avrà un valore che sarà di nuovo lecito per quella proprietà e ne ha più di 200 al momento di proprietà CSS che riguardano i numeri che sono di tipo misure che sono di tipo percentuale che possono essere di tipo stringa di tipo colore tipo il rosso il verde il blu 12 pixel e quant'altro si applicano appunto a quali elementi hanno queste proprietà e appunto ereditano come vi dicevo prima quindi la maggior parte vengono ereditate alcune invece no come per esempio la larghezza e qui in questa figura ci sono una serie di possibili proprietà CSS e queste proprietà sono poi divise in varie categorie ci sono delle proprietà che riguardano l'animazione delle proprietà che riguardano gli sfondi quelle per il bordo per il colore per la dimensione per le font per le liste per i margini per i padding quindi lo spazio interno a un oggetto per le tabelle per i testi e così via allora diamo un'occhiata a questo link che riporta queste proprietà vedete le categorie queste sono le proprietà di animation e così via prendiamone un paio per capire come sono fatte quindi queste non è ovviamente necessario ricordarsene tutte a memoria alcune diventeranno comuni gli ambienti di sviluppo autocompletano per esempio background color background color definisce il colore di background di uno specifico elemento e allora come si applica qual è la sintassi di uno statement la sintassi è proprietà due punti qualcosa e questo qualcosa questo valore può essere il colore rosso verde giallo per esempio giallo indicato in questo modo può essere transparent quindi trasparente può essere quello iniziale può essere quello che viene ereditato esplicitamente da il contenitore dal contenitore dal blocco html che lo contiene quindi background color è una proprietà per esempio che non che è possibile dire io voglio ereditarlo vedete questo valore eredita è permesso su tutte le proprietà css e causa per un elemento permette un elemento di ereditare il valore calcolato dall'elemento che lo contiene quindi un modo esplicito per dire il background prendilo dal tuo padre dal tuo elemento padre e vedete che questo colore può essere identificato in vari modi per esempio giallo si può scrivere così oppure il colore si può scrivere come un colore rgb quindi rgb aperta parentesi un valore tra 0 e 255 per il rosso uno tra 0 e 255 per il verde e uno tra 0 e 255 per il blu in questo caso è come se scrivessimo rosso oppure in formato esadicimale guardiamo un altro esempio per esempio andiamo sui color ovviamente si comporta in maniera analoga a background color quello che cambia è che il background color appunto definisce il colore di background di sfondo di un elemento mentre color imposta il colore del testo del contenuto testuale dell'elemento e guardiamo in un altro per esempio qualcosa sui font per esempio font family font family definisce quale tipo di font volete utilizzare per il testo e qual è la struttura la struttura è come solito proprietà due punti valore questo valore nel caso di font family sono i nomi dei font a disposizione e da utilizzare quindi qui ci sono un esempio qui dice che font family dovrebbe essere arial virgola elvetica virgola sans serif cosa vuol dire questo elenco in virgola questo vuol dire e c'è scritto qui ecco qua la proprietà dovrebbe mantenere diversi nomi di font come un sistema di fallback quindi cosa vuol dire che se noi applichiamo questo body font family arial elvetica sans serif il browser cosa fa il browser cerca di renderizzare il testo nel body con un font di tipo che si chiama arial se per caso quel computer non avesse un font arial allora cerca di utilizzare elvetica che è diciamo molto simile ad arial se anche il font elvetica non fosse disponibile allora usa un generico font qualunque che appartiene alla famiglia sans serif che è la stessa famiglia di font a cui appartengono aria del vetica quindi è una catena di fallback nel senso che lui il browser predilige arial se è disponibile se non è disponibile va su elvetica se anche elvetica non fosse disponibile prende un font sans serif qualunque questa catena ovviamente può essere lunga a piacere qui è esemplificata con tre e qui c'è un altro esempio lui dice prima di tutto provo con il times new roman se poi non c'è provo con times se poi non c'è prendo un qualunque font della famiglia serif come sono appunto il times new roman notate che times new roman ha le virgolette non perché è un nome speciale o quant'altro ma solo perché è un nome che contiene degli spazi allora se contiene degli spazi bisogna per forza mettere delle virgolette allora questo sito che è elencato nelle slide vi permette di anche esplorare e capire meglio tutte le possibili proprietà e i possibili valori accettati di proprietà vedete che alcuni hanno un 3 davanti perché sono stati introdotti con CSS3 per esempio l'opacità di un elemento la trasparenza di un elemento è stato definito in CSS3 Grazie.